EcoFest 2023, rispetto per la vita sulla terra. Dal 2 al 5 giugno alla Fondazione Oasi, sul promontorio della Riviera San Bartolo. Concerti, spettacoli teatrali, laboratori, seminari e una tavola rotonda a Milano, in live streaming con relatori internazionali. Avremo con noi Jacopo Fo, Roberto Mercadini e i talentuosi musicisti dell'Orchestra Rossini. Questi e tanti ospiti vi aspettano all'EcoFest, un evento unico e imperdibile. EcoFest 2023, uniamoci in nome del rispetto per la vita sulla terra.